Ciao a tutti, amanti dello sport di Top Sport News. Oggi siamo qui per portarvi un'esplosiva notizia che sta scuotendo l'Inghilterra calcistica e potrebbe alterare drasticamente il corso del calciomercato della Premier League. Lucas Facuetà, il talento brasiliano che ha illuminato il Milan, è ora sotto i riflettori per un'indagine condotta dall'affa riguardante possibili scommesse. È il Daily Mail a svelare in esclusiva questa sorprendente rivelazione. Non perdete un istante, iscrivetevi al canale e lasciate un like. Per rimanere aggiornati su questa travolgente vicenda che sta tenendo il mondo calcistico con il fiato sospeso. Ecco la notizia che sta facendo tremare il mondo del calcio. Lucas Facuetà, un nome che risuona ancora nell'eco delle gesta al Milan, ora è al centro di un'indagine della Football Association. Le informazioni, rivelate in anteprima dal Daily Mail, suggeriscono che il brasiliano nel mirino del Manchester City sia coinvolto in scommesse. Un'imprevista e preoccupante svolta nella carriera di questo talentuoso centrocampista. Le indagini rivelano che Pacuetà avrebbe violato il regolamento scommettendo su alcune partite. Questo caso richiama alla mente quello dell'attaccante del Brentford, Ivan Toney, squalificato per otto mesi in seguito a simili violazioni. La notizia getta una luce d'ombra sull'integrità del calcio e rischia di influenzare i piani di mercato della Premier League. Nel mezzo di questa tempesta, Pacuetà e gli attori coinvolti mantengono il silenzio. Ma si prevede che presto nuove informazioni emergeranno da questo caso aperto dalla Federazione Inglese. Una federazione che ha dimostrato fermezza nel fronteggiare simili violazioni. Rimanete con noi, appassionati, perché siamo qui per guidarvi attraverso ogni sviluppo di questa storia mozzafiato. Iscrivetevi al canale, attivate le notifiche e unitevi alla discussione. Come credete che questa vicenda influenzerà il futuro di Pacuetà e la Premier League? Lasciate i vostri commenti qui sotto, perché il mondo del calcio non smette mai di stupirci e siamo qui per esaminare ogni aspetto di questa avvincente saga. Grazie Grazie Grazie